a forza di vivere in genere si finisce per morire questo aforisma bisogna mettere in evidenza quel a forza di vivere quello sforzo di vivere uno sforzo appunto che ci viene dal fatto che non è naturale c'è qualche cosa nel vivere che non è naturale allora ci si deve sforzare a vivere e sforzandoci a vivere lo facciamo perché in fondo non siamo soddisfatti nella nostra vita e questo questo non essere soddisfatti è in genere qualche cosa che ha sullo sfondo una sconfitta allora in questo senso la morte diventa diventa la sconfitta diventa la cambiare costante il nostro debito costante nei confronti di una vita che non ci soddisfa e allora per modificare questo atteggiamento forse bisognerebbe smettere di forzarsi di vivere di vivere un po più naturalmente o se vogliamo serenamente lasciando la morte sullo sfondo ma senza che essa diventi un debito diventi un'oppressione di brillazione di vivere e di vivere il quale un po' della